salve a tutti quelli che seguono i minecraftiani questo è un nuovo mondo questo è un nuovo mondo i i minecraftiani i minecraftiani quindi è una moneta sopravvivenza non hai trucchi però la cassa bonus spazio per sm io metto sempre uno quindi oggi vi farò vedere come si sopravvive in minecraft come veramente si sopravvive in minecraft non sono un asso però neanche masca moz tararo questo caricamento palloso e questo vi dico già che non sarà uno dei soliti e noiosi video che vedete su let's play di mine ma sarà anche più bello perchè infatti è caricato delle mod che sono bui di craft e paintball con cui poi creerò gli oggetti allora prima di tutto prendiamo il legno no ok perfetto ci sono quel top portami chi è che sono nuova o i diritti della schiena chi è che sei dai dimmi chi sei dai due botte adesso ti do io le botte cosa sto facendo sta laggando di brutto attenzione spero che non sia scappato perchè se lui vuole botte direi no però mi sono accorto che è anche una bella non è scappato grande rimani lì rimani lì chi diamine sai non lo so dai così 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 stai lì perchè lagga così tanto allora quindi questa è una spada sto cercando la cassa bonus sono circondato ecco la cassa bonus quindi ho anche un pollo mela ok 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 un po' di cose vado a trovare loro sistemarli anzi non aspetta che mi chiedono per fortuna che non sono aggressivi se non mi aveva già toccato però mi sa che quando li attacco io ben saranno tipo i millicidari bohmano rischio quindi prendo soltanto 2 di pietra ok non l'agga più speriamo che non l'agga più ok per farmi la mia prima spada di pietra non l'agga più aspettate vediamo che arma ha ha un fucile quell'altro pure allora i punti sono due o migliorare prestazioni sistema non mi serve o mi stanno seguendo e mi stanno facendo la guardia del corpo oppure sono alieni dell'altro mondo che sono venuti a scoprire il mio pianeta perché non credo che con delle mod che ho io delle persone che mi possano seguire perché io soltanto veramente paintball e build craft e allora 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 prima di tutto oh 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 no mi ha già ucciso mi ha già ucciso mi ha già ucciso rimaci velocemente sperando che non mi riattacca la cassa bonus perché l'aghi stato colpito da human day marine oh che forzata allora tu non mi attaccare vero che non ho avuto allora sono sono delle persone che mi stanno seguendo questo no come mai pensavo fossero alieni dove sta andando tt no 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 sta buono come dire non ti voglio far niente pace mamma mia prendiamoci il crafting table che ho visto qualcosa anzicolo l'ho visto qualcosa quel mio amico marini ah ma miniera miniera oh cappertini no sto spaventando per niente soltanto uno di carbone si ma dai ho sprecato un grande ferro non mi faccio la spara di ferro bisogna farsi anche la formace altro carbone perfetto non potrebbe andare meglio di così anzi qui c'è anche un continuo nella caverna allora obiettivo della puntata uccidere i marini perché loro mi hanno ucciso allora io ricambio questo uguale definizione di vendetta per trovarli per trovarli trovarli mela no allora sta laggando ma perchè raggi questa sarebbe come una parte credo perché io giuro che non ho fatto niente cosa mi vuole allora in questo tempo mi prendo le torce da io basta la gare per perché morato con il mio computer luci ecco la sera pure norto 100.000 dicevo che non ci sono compiuto affidati di mercato cappero non mi fida di tè se un barbo non scherzo senza appesano se c'è una grande compagnia proteggete tutti se insieme al mio computer se ho iniziato a farlo laggare no cosa corre questo ho pensato se lo uccido posso avere anche se non credo il suo fucile no allora cosa stavo facendo sperando che loro rimangano qui perchè il mio obiettivo di oggi è distruggere distruggere vendetta devo prendere 4 di pietra ritornarò alla base che credo la mia base infatti diventerà quella ma io non costruirò case io non costruirò case perchè tanto so che nel prossimo tato mi uccidono ho visto la niente inizia a essere quindi prima creo una fornace perfetto fornace a me poi creo le torce non insieme in più quindi ho 12 torce la fornace la deposito qui e inizio a cuocere il ferro intanto quello la chissà dove è sparito poi mentre cuoce il ferro io prendo altra legna ecco qui l'ultimo l'ultimo lingotto eccolo qua mettiamo lingotti no dentro alla cassa adesso li distruggerò appena ritrovo cosa cocco 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 ah 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 horror pur horror pur horror pur dove sto andando sono morto sono morto ho preso uno di quegli spaventi ragazzi ecco